Assumi una posizione rilassata, inspira normalmente riempendo il ventre. Quando espiri, lascia che l'aria scorra verso le gambe e i piedi. Continua ad ispirare e ad ispirare mantenendo l'attenzione sul tuo respiro. Grazie a tutti. Ora inizia ad osservare i tuoi pensieri lasciandoli scorrere uno dopo l'altro senza identificarti. Tra un pensiero e l'altro c'è uno spazio tempo vuoto, ovvero privo di pensieri. Inizia a dilattare sempre di più il vuoto nella mente. Mantenendo parallelamente una parte della tua attenzione sul tuo respiro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.